Umbria in zona bianca dal 7 giugno, traguardo che sarà raggiunto all'iniziare della prossima settimana invece per tre regioni, Molise, Sardegna, Friuli, Venezia, Giulia. Sarà l'occasione di dare un'ulteriore spinta alla ripresa dell'economia della nostra regione alle porte dell'estate, per un turismo che sarà sorretto dalla riapertura, il chiuso per pranzo e cena tutti i giorni da parte dei ristoranti ad iniziare dal primo di giugno. In zona bianca spairà il coprifuoco che comunque sarà rimosso dal 24 giugno su tutto il territorio nazionale, a prescindere dalla colorazione di rischio. I ristoratori dovranno osservare il numero massimo di presenze contemporanee in relazione ai volumi di spazio e ricambi d'aria. Per la sicurezza di tutti, come disposto dall'ultimo ordinanza del Ministro della Salute, dovrà essere osservato almeno un metro di separazione tra i clienti di tavoli diversi, negli ambienti al chiuso. Un metro di separazione previsto anche negli ambienti all'aperto. Non c'è invece più limite previsto per quanto riguarda i posti tavola. Rimane indispensabile mantenere però il distanziamento, così come rimane l'obbligo della mascherina in ogni occasione in cui i clienti del ristorante non sono seduti al tavolo. Dal primo di giugno sarà possibile effettuare consumazioni al bancone dei bar. Si dovrà assicurare del mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro tra i clienti.